Sulla vicenda dell'ex legno chimica di Rende, la cui è resta sequestrata, è l'oggetto di indagine da parte della procura di Cosenza, è intervenuta anche il Lega Ambiente Calabria. Ricordiamo che l'area non è mai stata sottoposta all'operazione di bonifico di messa in sicurezza e potrebbe essere un pericolo per la salute dei residenti in zona. Siamo soddisfatti, detto il presidente regionale del Lega Ambiente Francesco Falcone, delle indagini che il procuratore capo Dario Granieri e l'aggiunto Marisa Manzini stanno portando avanti per individuare i responsabili del disastro ambientale, ma chiediamo che si arrivi subito ad una soluzione per eliminare la situazione di grave inquinamento delle falde e dell'aria, con gravi ripercussioni sulla salute dei cittadini che gravitano nell'area urbana di Cosenza, Rende Montalto e non solo. Con la nuova legge degli ecoreati, approvata lo scorso mese di maggio, non ci saranno più sconti di pena, chi inquina paga. Dopo la Marlana di Praia e i capannoni di amianto di fronte alla scuola di Mongrassano, ha concluso Falcone, Lega Ambiente Calabria vuole essere parte attiva anche di questa lunga e complessa vicenda.